Neil deGrasse Tyson ha condiviso con il mondo una notizia spaventosa. Il nostro universo è nato molto probabilmente in un buco nero. E probabilmente viviamo in un buco nero ancora oggi, senza accorgercene. Questo smentisce la teoria del Big Bang? E perché questa verità è la prova del multiverso? Le risposte a queste domande cambieranno per sempre la tua visione dell'universo. Giganti misteriosi, i buchi neri I buchi neri sono il fascino della scienza. Esistono, non c'è dubbio, ma nessuno scienziato ne ha mai visto uno, perché i buchi neri sono invisibili. Sono costituiti da una sostanza che sfugge ai nostri occhi e che diventa percepibile solo grazie al suo immenso peso con cui piega lo spazio-tempo. Grazie alla curvatura, i buchi neri attraggono come calamite tutta la materia nelle loro vicinanze e la risucchiano. Ciò che accade all'interno dei buchi neri è un segreto della scienza. Possiamo solo ipotizzarlo o calcolarlo con le equazioni della relatività generale. Gli scienziati parlano di una singolarità, una concentrazione di tutta la materia in un solo punto. Sapevi che gli scienziati hanno calcolato che anche il nostro universo ha avuto origine da un unico punto? Strano, vero? Viviamo in un buco nero Citazione di Neil deGrasse Tyson. Ci dice che un intero nuovo spazio-tempo può formarsi all'interno di un buco nero nel futuro dell'universo. Neil deGrasse Tyson, il popolare astrofisico statunitense, lo ha detto in poche parole. Gli scienziati hanno calcolato che ogni buco nero ha il potenziale di creare un nuovo universo al suo interno. A prima vista questo dato sembra sconcertante, ma se diamo un'occhiata più da vicino alla natura dei buchi neri, questa ipotesi sembra logica. Sappiamo che i buchi neri risucchiano quantità gigantesche di materia. All'interno delle stelle, i pianeti, le nubi di gas e i dischi di polvere vengono scomposti nei loro componenti originali, che alla base sono energia ed informazione. La fisica quantistica ci insegna che l'informazione, in quanto componente di base della materia, non può essere distrutta. Facciamo un salto. Guardiamo l'inizio dell'universo come ce lo spiegano gli scienziati. Non esiste altro che un potenziale concentrato su un singolo punto. Questo piccolo punto, chiamato singolarità, contiene tutte le informazioni necessarie per far nascere un universo completo. Facciamo un altro salto. Gli scienziati immaginano la fine del nostro universo in modi diversi. Una teoria comune e coerente dice che alla fine dell'universo giganteschi buchi neri avranno risucchiato tutta la materia e accumuleranno il potenziale informativo dell'intero cosmo. Ma cosa accadrà in seguito? È improbabile che l'universo rimanga in uno stato rigido. È molto più probabile che sia in costante movimento, rimodellamento e ulteriore sviluppo. Se tutta la materia si concentra in un unico punto o in un gigantesco buco nero. Dove ci troviamo? Esattamente siamo in questo punto, questa singolarità da cui è nato il nostro universo. Sir Roger Penrose aveva già avanzato molti anni fa la teoria dell'universo ciclico. Un cosmo che nasce, si espande, finisce e rinasce. La più recente teoria della vita in un buco nero si spinge ancora più in là. La prova del multiverso. L'informazione è una quantità interessante nel mondo della fisica quantistica. Se analizziamo da vicino la natura dell'informazione, non è affatto detto che alla fine dell'universo tutte le informazioni debbano essere concentrate in un unico grande buco nero per far nascere un nuovo universo. Teoricamente questo è possibile in tutti i buchi neri. Ci sono molte speculazioni su cosa siano realmente i buchi neri. Inizialmente si pensava che fossero dei wormhole o dei portali verso altre dimensioni. Tra gli appassionati di fantascienza queste idee persistono ancora oggi. Ad oggi i fisici non sanno esattamente cosa siano i buchi neri. È chiaro solo che assorbono grandi quantità di informazioni e non le cedono più, almeno non nel nostro universo. E qui arriviamo al punto. Perché da qualche parte queste informazioni devono comunque andare se una volta non sono distruttibili e in secondo luogo in questo universo non possono più uscire dal buco nero. Come in uno specchio mistico, è possibile che l'informazione che scompare qui appaia nuovamente in un altro universo. Ogni buco nero del nostro universo può quindi essere potenzialmente un passaggio per un nuovo universo separato. Se questo è vero, allora viviamo in un multiverso e i buchi neri sono portali per questi altri mondi. Dentro e fuori un buco nero. Un'altra circostanza che avvalora questa ipotesi è una strana specularità del mondo. Fuori da un buco nero e dentro un buco nero. Non sappiamo molto dell'interno dei buchi neri, ma alcuni valori possono essere calcolati grazie alle equazioni della relatività di Einstein. Una caratteristica importante di tutti i buchi neri è l'orizzonte degli eventi, un confine oltre il quale la materia non ha scampo. Ciò che finisce dietro l'orizzonte degli eventi non fa ritorno da lì. Esploriamo insieme il mondo all'interno e all'esterno del buco nero. Rimarrai stupito. Al di fuori dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, un oggetto sente chiaramente gli effetti gravitazionali del buco. La materia è attratta dai buchi neri, ma un oggetto all'esterno del buco nero può ancora fuggire se viene attratto da un'altra forza o se riesce ad accelerare in modo tale da resistere alle forze di attrazione. Tuttavia, una volta che un oggetto attraversa l'altro lato dell'orizzonte degli eventi, nessuna forza o accelerazione esistente in questo universo può strapparlo all'attrazione gravitazionale del buco nero. È destinato a essere assorbito dalla singolarità centrale del buco nero. I buchi neri acquistano peso grazie alla massa che risucchiano, quindi, al loro interno, deve accadere qualcosa che ancora non comprendiamo. Diamo un'occhiata ad altre quantità interessanti. Se prendiamo tutte le forme di materia e radiazione conosciute nell'universo osservabile, avremo la materia normale, fatta di protoni, neutroni ed elettroni. I neutrini fantasma che vanno per la loro strada e interagiscono raramente con la materia normale, la materia oscura, che domina la massa dell'universo ma non può ancora essere rilevata direttamente, fotoni e particelle di luce, o quanti, che trasportano l'energia di qualsiasi evento elettromagnetico e le onde gravitazionali. Attualmente possiamo vedere in tutte le direzioni fino a circa 46 miliardi di anni luce di distanza. Se ora prendiamo insieme tutta l'energia e la massa dell'intero universo osservabile, otteniamo una massa equivalente per l'universo utilizzando la famosa formula E uguale mc². A questo punto ci poniamo una domanda interessante. Cosa succederebbe se tutto questo venisse compresso in un unico punto? La risposta è la stessa che si avrebbe se qualsiasi massa o energia venisse compressa in un punto. Qualsiasi massa in quel momento corrisponde a tutte le masse. Il risultato fisico è lo stesso. Questo singolo punto formerebbe un buco nero. Come dentro, così fuori La teoria della gravitazione di Einstein descrive il modo in cui la massa curva lo spazio che la circonda. Il raggio di Schwarzschild è un termine di questa teoria e si riferisce alle dimensioni di un buco nero non rotante e non carico in base alla sua massa o alla distanza tra la singolarità interna e l'orizzonte degli eventi. Se ipoteticamente si prendesse l'intera massa dell'universo osservabile e la si trasformasse in un buco nero, allora sorprendentemente il raggio di Schwarzschild di quel buco nero sarebbe grande quasi esattamente quanto l'universo osservabile stesso. Si tratta di un'intrigante coincidenza che solleva la questione se il nostro universo possa effettivamente essere l'equivalente dell'interno di un buco nero. Se ci addentriamo ancora di più in questa considerazione, la questione si fa ancora più interessante. Negli anni 60 gli scienziati fecero una scoperta sorprendente. Si accorsero che ovunque nel cielo c'era una specie di debole radiazione che ci raggiungeva ad ogni direzione. Era come trovare una luce soffusa che brillava ovunque nell'universo. Questa radiazione aveva la stessa temperatura in tutte le direzioni, meno 270,425 gradi, quindi appena sopra lo zero assoluto. Il modo in cui questa radiazione emetteva luce è chiamato spettro del corpo nero e la sua forma indicava chiaramente che la debole radiazione appena scoperta doveva provenire da qualcosa di uniformemente caldo, come un pezzo di metallo incandescente che poi si era raffreddato. Gli scienziati hanno identificato come origine calda della radiazione il Big Bang e la radiazione stessa, che conosciamo come fondo cosmico a microonde. Entrambe sono considerate prove fondamentali del fatto che il nostro universo si sta espandendo e raffreddando, o che l'universo era più caldo e denso in passato. Più si va indietro nel tempo, più le cose erano piccole, uniformi e compatte. Se andiamo completamente indietro, ci avviciniamo alla singolarità e quindi allo stesso stato che si trova nell'interno centrale dei buchi neri. Alla singolarità la materia diventa così densa e le temperature salgono a livelli tali da far crollare le leggi della fisica conosciuta. Se analizziamo le equazioni che descrivono un buco nero, si nota qualcosa di straordinario. Il raggio R di Schwarzschild è la distanza tra il centro del buco nero e il suo orizzonte degli eventi. Se partiamo dall'orizzonte degli eventi e consideriamo il raggio di Schwarzschild di un buco nero come la distanza R, arriviamo a un punto all'infinito. La distanza dall'orizzonte degli eventi alla singolarità interna corrisponde all'infinito nel mondo materiale. Di conseguenza, un buco nero porta all'infinito. Inoltre, tutte le proprietà dello spazio al di fuori dell'orizzonte degli eventi di un buco nero sono curiosamente identiche alle proprietà dello spazio all'interno di un buco nero. Se calcoliamo il raggio R di Schwarzschild e alcune altre grandezze, otteniamo un riflesso perfetto dell'esterno all'interno del buco nero o viceversa. L'immagine è paragonabile a quella di una sfera che riflette al 100%, uno specchio perfetto quindi. Notiamo poi che la totalità dell'universo che si trova al di fuori di questa sfera si trova distorta nell'immagine speculare che si riflette sulla superficie della sfera. Queste scoperte scossero le fondamenta della cosmologia. Nuovi calcoli crearono un modello completamente nuovo dell'inizio dell'universo basato su queste conoscenze. Piuttosto che avere origine da una singolarità, è molto più probabile che l'universo sia stato creato in termini basilari da un rapido stato di costante espansione esponenziale. Questa matrice ha preceduto persino il Big Bang caldo. Se questo è vero, deve esserci un campo che ha fornito l'energia necessaria per gonfiare lo spazio. Questo campo potrebbe essere lo spazio stesso e solo quando questo si è già fermato si è arrivati al Big Bang. Questo renderebbe errate molte teorie sull'espansione e sullo spazio-tempo e dovremo aspettare di vedere cosa mostreranno ulteriori studi e osservazioni anche da parte del nuovo telescopio spaziale James Webb. Premi il pulsante e iscriviti perché ci sono ancora molte novità in arrivo.